Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la SDS, la serie delle 7 dei nostri gamberetti segni miei Allora, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e darete a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, i link li trovate in descrizione E se volete supportare il canale Underbik con donazioni anche in descrizione trovate il link per poterlo fare tramite Paypal Detto questo partiamo con il video Ok ragazzoli, allora, noi siamo messi non bene, di più, di più, le aspettative così a palla Allora, prima cosa, facciamo gli allenamenti, facciamo gli allenamenti, facciamo gli allenamenti, option dove options Ok, chi dobbiamo allenare? Non lo so, i difensori c'è uno rotto, quindi andiamo con gli attaccanti E andiamo con gli attaccanti, sì, i centrocampisti devo ancora sistemare, devo ancora mettere anche gli esterni Raga, devo giocarci un attimino off camera qui con i gamberetti per sistemare sia i centrocampisti che gli esterni Che i difensori esterni per poterli fare allenare tutti quanti i giusti, però va bene Andiamo avanti, noi ricordo siamo terzi a 35 punti A un punto dal secondo posto, che vuol dire qualificazione diretta E a 4 punti dal primo posto, che vabbè, sarebbe troppa manna dal cielo Andiamo intanto avanti con il nostro bellissimo calendario E vediamo un attimino cosa ci propone il primo d'ottobre Dovrebbero arrivare gli osservatori, infatti l'allenamento dell'osservatore Da dove? Dall'Argentina se non sbaglio Galeano, 59, 81 No E poi abbiamo urtato, questo già è urtato di suo, già lasciamolo perdere Già lui è urtato, Raid si è rotto in allenamento Ok, 7 giorni di stop, bravo Raid, complimenti Complimenti, gli allenamenti sono fatti per migliorarsi Te, te si è rotto in allenamento Va bene, va bene, bravo Raid Nicky è tornato, il nostro Nicky è tornato l'osservatore Da dove sei venuto zio? Tu vieni dal Camerun Allora abbiamo Hamed Ulua, 64, 82 No Poi abbiamo Teco Du, 74, 94 Questo sì, questo sì raga Anche se partiamo da molto basso, però lo pigliamo Poi, Seku Lua, no Lua non ci piace Idrissa Bonsu, non ci piace manco lui Ciao Idrissa Musa Wanplu, non ci piace manco lui Anche perché è un portiere Tecondri, 77, inguardabile Rifiuta, ok Abbiamo preso quello lì che poi andremo a vedere raga Perché non stiamo più a giocare? Perché c'è tutta questa gran pausa di partite? Giocatori impegnati con le nazionali Ah, perché stanno a giocare nazionali Chi è? E Isma ha premiato come giocatore al mese di ottobre Ah, e a noi non ce li danno i premi raga A noi non ce li danno i premi Che siamo terzi in classifica Non ce danno nulla a noi Non ce danno nulla a noi Perché non ce danno nulla? Giocatori impegnati con la nazionale Va bene, non ci interessa Ah no, ci interessava Perché ci manca mezza squadra Ottimo Allora, Morris Naga Casa Dei Casa Dei confermato Mariani Raid che si è ripreso Nicholson no Gioca Esposito Mitch le facciamo giocare Ah, Lindsay dall'altro lato Va bene, allora Lindsay va bene Il nostro Harwood Hamilton Lindsay e McKillay Lo dobbiamo far uscire per il portiere In panchina abbiamo McKillay che deve andare via perché è nazionale Quindi lo facciamo andare in nazionale Salazar che torna titolare Quindi potremmo mettere lo titolare Ma lo mettiamo in panchina per ora Signori miei E... Claudio, Morris Diamo un turno a Claudio, raga Naga per ora è molto arrabbiato Quindi Naga teniamolo titolare per ora, raga Facciamole fare un'altra partita titolare a Naga E poi rimettiamo il duo d'attacco Claudio, Morris In casa contro il Blackpool Allora, è dietro di noi il Blackpool, raga Siamo a casa nostra Allora, loro vengono da un pareggio contro il Colchester Non distruggiamo la magia che c'è per ora attorno ai gamberetti Dai, è 1 a 1 Va bene, va bene, va bene, va bene Gol di Claudio L'abbiamo pareggiato nel 51esimo, va bene Sono usciti Lindsay, Harwood e Raid Per Drollo, Salazar e Sullivan Ammonito e Hamilton Va bene, 1 a 1 Va bene, va bene E' un punto importante Siamo comunque quarti in classifica, raga Siamo comunque quarti in classifica Non siamo messi male, non siamo messi male Allora Chi è che si? Perché il difensore? Ah, addirittura due ce li abbiamo rotti Ok Allora, difensori centrali Loro si stanno allenando Allora, andiamo a mettere terzine a questo giro Mettiamo Mitchell Che ti alleni qualcosa di difficile Va bene E poi andiamo a mettere un altro esterno Andiamo a mettere Andiamo a mettere il piccolo drollo Piccolo drollo Pensaci tu Allenati sempre di più Ho fatto pure la rima Che cosa carina Ok Mitchell sale a 69 E Harwood sale a 71 Raga, in difesa stiamo avendo un muro Stiamo alzando un muro Raga, in difesa stiamo alzando un muro Bella così, bella così Allora Andiamo avanti con questo mese di novembre Signori miei Con questo mese di novembre Porca miseria abbiamo il Portsmouth Raga Prossima partita abbiamo il Portsmouth Ah no, il Rockdale Rockdale che è sotto di noi McKinley vuole giocarlo A me chi? Seri nazionale io che ci posso fare? Sei il mio giocatore principale Allora Fuori Bremen Dentro McKinley In difesa direi Hamilton Lo facciamo uscire per Salazar E... Lindsay qui Può giocare il piccolo drollo Allora Facciamo tornare il piccolo drollo Mitchell va bene Esposito fuori per Nicholson Raid Mariani Facciamo fuori Mariani Dentro a un Ponsa Casa Dei Va bene E qua mettiamo la coppia d'attacco principale Claudio Morris Io direi che va bene Sì, giochiamo così Giochiamo così Dai raga Dai raga Dai 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 Che il sogno continua Se vinciamo questa Il sogno continua Se vinciamo questa è il sogno continua Se loro vengono da una sconfitta contro il Colchester Dai raga Dai raga Mi raccomando 1-0 Va bene Va bene Goal Partita inutile Partita inutile Non è successo niente Tranne due ammoniti per loro E il nostro goal di Morris Rissa al 29esimo Ma ci portiamo 3 punti a casa Raga Il sogno continua Questo episodio si chiamerà Il sogno continua Signori miei Magnifica vittoria È grande Bravo Bravo Non so chi è che parla McKinley Ah perché voleva giocare Ottimo lavoro McKinley Bravo Bravo Alziamo il morale della squadra Raga Alziamo il morale della squadra Facciamo gli allenamenti Chi alleniamo stavolta Alleniamo i centrocampisti Sì Alleniamo i centrocampisti Andiamo a mettere gli esterni Questa volta Le ali Andiamo a mettere Casa Dei Non c'è il caso dei Il nostro bolognese Che ci fa le cancioni E va bene Allenati lì E poi l'altro esterno Che possiamo andare a mettere È esposito Dai Anche tu ti alleni lì In velocità La facilità E controllo palla Dai Canica non diventa un 55 Bravo Canica Ci manca un padù Ah 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 Attenzione Ci manca un padù In questa lista Delle allenamenti Prometto il prossimo episodio Saranno tutte cose sistemate E ritorneremo a fare Una volta a settimana All'uno E non si lamenterà più nessuno Prossima partita Contro il Colchester 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 Abbiamo un po' La squadra stanca Ma abbiamo i sostituti Per poterla giocare Allora Fuori Morris Dentro Naga Per forza Claudio lo lasciamo lì Fuori casa dentro Sullivan Amponsar Amponsar Mariani Nicholson Lo lasciamo lì Mitchell fuori Per l'Insei Salazar Fuori per Hamilton Il piccolo drollo Se la gioca E va bene così Abbiamo qualcuno In panchina Che può Subentrare In maniera importante Esposito Ce lo potremmo portare Al posto di casa Dei Mi sembra messo meglio E poi Giusto l'altro portiere Raga Me lo porterà Al posto di Johnson Che Se può arrabbiare Quanto vuole Ma non è Minimamente presentabile Ancora Johnson Deve sudare Deve sudare Il The Rock Dei poveri Mi sa che Gennaio farà Un bel viaggio Da qualche parte In casa contro il Colchester Raga voglio la vittoria Raga voglio la vittoria Loro vengono Una sconfitta Contro il Doncaster Siamo in casa Raga non mi deludete Dai Gamberetti 3 a 0 Prendi e porta a casa Raga Mamma mia Il sogno continua Il sogno continua In gol Mariani Nicholson E Naga Si è rotto Claudio Che è uscito Per Morris E poi Fuori Sullivan Per Raide E' espulso Linsei Porca miseria Porca miseria Allora Fermi tutti Siamo terzi A 42 punti Pari punti Con l'Hall City Che è quarto E' un punto Dal Charlton Ok Ne avvene un attimino Che è successo Giocaatore infortunato No Claudio si è rotto Per due mesi Mamma mia Claudio Questo è stato Naga Che gliel'ha mandata Questo è stato Naga Che gliel'ha mandata Così tante Che si è rotto Per due mesi Praticamente E va bene Riusciremo a Sistemare anche Questo piccolo Defaianza Raga Riusciremo a sistemare Anche questa piccola Defaianza Allora Mitchell la vuole giocare Va bene Mitchell è mio Non ti preoccupare Zio Ci penserò Ci penserò Ma sei uno Dei nostri elementi Fondamentali Quindi ci penserò Ma giocherai Non ti preoccupare Allora Sistemiamo la squadra Sistemiamo la squadra Fuori Claudio Che si è rotto E facciamo giocare Morris Per forza Fuori o sali Ma tanto da sei giocata E facciamo giocare Casa Day Amponsa Mariani Fuori Mariani Dentro Raid Distruttano Quindi va bene così Nicholson Fuori Mitchell Dentro Fuori Fuori Linzee Dentro Mitchell Fuori Harwood Dentro Salazar Ci teniamo Hamilton Il piccolo drollo La gioca Ok Allora Linzee C'è il cartellino rosso Quindi non può giocare Ci portiamo Cunningham E poi Sullivan Per Claudio Raid è scontento Raid mio Ma sei completamente stanco Quindi non posso farti giocare Ultima partita della giornata Raga Ultima partita del video Vediamo se riusciamo a portarci Altri tre punti a casa La vedo un po' difficile Contro il Doncaster Siamo fuori casa Loro vengono da una sconfitta Contro il Portsmouth Che ci facciamo noi raga Ai 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 3 a 1 Mamma mia raga Non ci ferma più nessuno raga 3 a 1 pesante Ammoniti Salazar E Morris Doppietta di Nicholson On goal di Naga Bella così Bella così raga Spettacolo Viaggiamo verso le posizioni alte In classifica Allora io non tocco nulla raga Rimaniamo fermi così Siamo a 45 punti A pari punti Con l'All City Che è quarto A un punto dal Charlton Ok E sempre a 4 punti Dal Portsmouth Perfetto Va bene Detto questo ragazzolo Io mi fermo qui Siamo arrivati al limite di novembre E mi fermo qui Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto E per tutto quanto Per i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao